e ti danno la possibilità di, se tu li sblocchi tutti, cioè tutti i 24, ti danno la possibilità di avere dei frammenti cimeli. I cimeli praticamente sono degli oggetti speciali che hai nel gioco e che usi per... come si può dire... sono speciali che hai nel gioco e li sfrutti e li sfrutti quando sei senza le armi, cioè solo per far vedere che ce l'hai, è una cosa estetica, non serve neanche per fare più danno o da del genere, non solo cose estetiche, però sono carine insomma. Invasione, se non c'è una verità che non è l'arena, poi non c'è gente invasione, non è molto almeno, ma quello qui non prende solo tutti i rinamerari, il superiore, tutti i miei sono stati rinascitati, ma molti che vanno a perdere. Carichi e pronti, trio. Olympus. Allora, cagion della rante nuda, buono. Cazzo, quanta roba. La Spitfire com'è? Uh, è quella del Koso. Azz, figa. Bello. Però chiede anche tanti punti. Bonen. Blowdown. 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 batti le mani vediamo quello che si può fare mandami buona fortuna chi ce vuole ecco il posto bab shanks se gli dèi lo vorranno vinceremo no, ti ho provato a giochi eh, diciamo che c'è il tetto andrà tutto benone almeno questo è ciò che continuo a ripetere dovrebbe esser Cici stava facendo la live di Ruben dicono che la morte raggiunga tutti prima o poi dicono che la morte raggiunga tutti prima o poi segnerò la posizione per la battaglia allora andiamo lontani va lancio io guardiamo è lui tutta la mano che andrà qua controlliamo quella zona controlliamo quella zona sacati mirage di merda attenzione prima vicino il prossimo anello è lontano spero che vi piaccia fare esercizio eh, un bello scudo non ci soffrirei in questo momento anche un bello zaino se per quello io mi faccio zaino io lo faccio prima grazie 55 cazzo non c'era io qui c'è un ottica distanza ravvicinata qui c'è un ottica cazzo cazzo 60 secondi alla chiusura dell'anello muoviamoci oh, uno zaino finalmente l'anello è distante c'è poco tempo la battery buona con questo non mi dimenticherete solo i più forti sopravvivono solo i più forti sopravvivono no, no non c'entro qui c'è un ottica distanza ravvicinata distanza ravvicinata lo stato no di avere l'immagine potrebbe esserci qualcosa da questa parte grazie non c'è di che non c'è di che camera esplosiva da questa parte qualcuno può farla saltare ditemi che avete degli esplosivi quella capsula assistenza dei regali per noi spostiamoci qui concedimi la vista what the fuck perchè qualcuno mi senti che passa di qua non ho capito questa cosa però qualcuno mi senti che passa di qua qui c'è una cella a scudo sono tornato qui c'è un caricatore che non è riuscita livello 1 attiro il drone vai la uso io la uso io mamma mia attenzione nuovo leader uccisioni presa il sarò che cazzo che cazzo sì andiamo va ciao dove c'è L'occhio che tutto vede Esco dal drone Sto tornando Sto ritirando il drone Qui c'è un'ottica Qui c'è un cassa Livello 2 La vedo male questa partita La vedo molto male Ma la vedo proprio molto male Verde supersonica Tra l'altro C'è male giusto Ragazzi Salite Sguinzaglio un drone in cielo Esco dal drone Sto tornando Ritiro il drone Potrebbe esserci qualcosa da questa parte Attenzione Il campione è stato eliminato Un campione è caduto Era il suo momento Sto saccheggiando qui Per favorire la nostra lotta Sto controllando l'area Se ne avete bisogno Qui c'è un caricatore energetico esteso Livello 3 C'è nessuno Attenzione Ne ho uno qui Qui c'è un ottimo Distanzero avvicinata Qui c'è un kit medico Inizio che erano un po' troppi kit medici Però Diamo un'occhiata laggiù ricevuto uno dei loro laggiù ricarico gli scudi già stanno ressando qui c'è un caricatore pesante steso livello 3 ecco ne uno un altro periccio avuto fuoco via 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 ricarico mi prendo qualche seguito sto tirando il drone ecco l'altro pezzo sto controllando l'aria ricarico gli scudi sono tornato disconnessione dal drone riuscita no era il danno 5 questo sta in piedi in mezzo ma che cazzo fai attenzione anello in movimento siamo affortunati siamo già dentro il prossimo anello non ci sono abbastanza me in questo posto ricarico gli scudi capsula assistenza in arrivo che ha detto tutti storia Ehi c'è un nemico Guardate in alto Sgranata Au e ci cosa spostiamoci in questo punto sto controllando i dintorni 60 secondi l'anello è vicino 45 secondi l'anello è vicino andiamo da questa parte eh cazzo dobbiamo sbrigarci dobbiamo andare dall'altra parte da tutto il giro fate attenzione ragazzi l'anello non è lontano abbiamo ancora 30 secondi sto controllando i dintorni nemico proprio qui proprio di fronte a me c'è una capsula rifornimenti aperta laggiù potrebbe esserci qualcosa da questa parte mamma mia perché non mi ascolta mai nessuno sto cazzo di gioco ah ma io non devo parlare io gli insegno le cose la cosa più semplice di sto gioco siamo fuori dall'anello solo al suo interno saremo sicuro andiamo da questa parte ad un'occhiata capsula assistenza in arrivo va sono già in safe ancora l'altro sta a fare i posti strani qui c'è una capsula assistenza bersaglio individuo uno dei loro laggiù controlliamo quella zona stai sulle palla che chiude nemico proprio qui l'occhio che tutto vede sono sottotiro esco dal drone sto tornando ricarico gli scoti sto controllando l'aria ricarico diservi della salute ricarico attacco non ti sono occupati non ti sono occupati non ti sono occupati non ti sono occupati non ti è terminata ^^ l'anello è vicino l'anello è vicino lancio una nuova l'anello è vicino ricarico gli stili ci siamo in contatto con l'info sto controllando l'aria fanculo eh vabbè io c'ho i compagni che non mi aiutano io veramente mi domando perché sto giocando io mi domando veramente perché sto giocando per vedere questi qua che vanno a terra muoiono ma che cazzo fai ma dove vuoi andare ma dove vuoi andare eh vabbè che tristezza 20 punti guadagnati mi sono arrangiato praticamente andiamo pacchetti vediamo i pacchetti blu viola bianco blu azz come get 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 capito capito Sammy ecco vuol dire fatevi sotto vabbè io ho già fatto oh mi siamo la il friend si scapiva come spiego le cose non c'è nessuno figh azz 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 Un altro noob? Ah, un altro noob! Ah, beh, è mio compagno di squadra. C'è, tanto per far capire. Ehi, prova a spostarmi. Sarà divertente. Sono la Jumpmaster! Sei un po' troppo lento, baby. Io invece sono un po' troppo forte. Ti hanno gli occhi aperti. La battaglia arriva all'improvviso. Cioè, Samy, non sono ancora sceso e c'è già la prima vittima. Iniziamo bene. Porca troia. Non essere timido, saluta! Non essere timido, saluta! Il mio robotino. Woohoo! E si scavescia le gambe. Oh, ma è stimato soddisfazione. Trano ma vero. Ah! Ah, beh, allora. Qui c'è una P2-020. Qui c'è un R-99. Qui c'è un calcio stanno. Livello 1. Ui, stavo cadendo. Mannaggia a me. Qui c'è un OPA. Per fara cranio. Qui c'è un'ottica. Distanza ravvicinata. Un zaino. Già ce l'ho. Già uno zaino, ma come ne sono accorto. Non c'è di che. Non cadere, non cadere, Alessandro. Non cadere. Faresti una figura di merda. Da batteri? Guardate, campione fuori giù. Non c'ho spazio. Preconto, mila granate. Ecco perché non c'ho spazio. Qui c'è un SMC bolt. Brutto l'uccelaccio malefico. L'anello è lontano e mancano 60 secondi. Sveglia. Eh, amica mia, servono anche a me c'è lì. Madonna, zia, ti calma, figa. Grazie. Mi serve un otturatore per shotgun. Potrebbe esserci del bottino laggiù. Vi terrò informati. Nemico da questa parte. Come nemico? Dove cazzo sei? Qui c'è un'ottica. Distanza ravvicinata. Ha qualche scorsa extra. Attenzione di anello in chiusura. Aprite le orecchie, gente. L'anello si muove. Noi siamo dal lato sbagliato. C'è un nemico, gente. Ma che cazzo di milino hai? E' l'80x. Ma che cazzo hai fatto vederlo? Ma che è? Come ho fatto la sorpresina, ma a quanto pare non volete sparare. Ah, ecco. Vatti vedere, stronza. Mi sta... Cuoco. Andiamo da questa parte. Contatto. Sto ricaricando. E' parato addosso. Qui c'è un nemico. Sto ricaricando gli scudi. Sto ricaricando gli scudi. Sto ricaricando gli scudi. No. Peglio di puttana Lo sta restando Ma così muoio io Vabbè ma questo qua è rincogliolito Ma ce l'ho fatta No vabbè raga dai Non vi dico la mia Perché vi vergognereste Dovremmo andare da questa parte No non credere No non credere Tutto la terra accompagno questi qua Invece di darmi la mano Si nascondono C'è un nemico anche lì Che meno ho molte cura però Vai sentimi Vaffanculo Per mi sparare muoio Finita lì Vabbè vaffanculo Sono qui che t'aspettano Ci stronzi di merda Pezzi di merda Dio cane Che pezzi di merda Schifosi Che pezzi di merda Del cazzo Vabbè buona fortuna Banca lontano Buona fortuna Perché questi qua A quanto pare Sono degli stronzi Ti prendono anche fuori safe Gente così figa Ha solo dei problemi E non dico nient'altro Perché non si può dire un cazzo In sto giorni Sto fici di merda Vabbè Andiamoli giocare Intanto vado a fumare Una bella sprinti Quindi Cazzo lo rifà Aggiungo a Samsung No grazie Che tristezza Sti giocatori di merda Che tristezza Sto fici di merda C'è a me C'è ancora Come sta andando A te Vabbè allora Stai giocando zombie Ma è la vaffa nuova O quella Ah quella Ma alla fine Quella lì Non puoi potenziale Quindi mi fai Ah Uccidi il zombie Vabbè Vabbè Ma Uccidi i zombie Di alto livello Come fai Ad uccidere I zombie Di alto livello Come al solito Cioè si potenziano da solo E tira proprio Delle altre armi Ah ok Delle altre armi Almeno Do Delle 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 Sì Delle 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 E' un po' l'aropettino. E' un po' l'aropettino. E' un po' l'aropettino. Ma' già spesso. E' un po' l'aropettino. La P5 è blu, non è male? Ma toglie così poco? L'aropettino è un po' l'aropettino. Beh, Samy, figa. E' un lancio granato a tamburo, porca puttana. E' un uccide quello, figa. Se non uccide quello, proprio mi vergognerei. E' ci credo che hanno buttato un bombardamento. E' stronzio. Da un po' l'aropettino. Quei più, per questo, da un po' l'aropettino. E' un po' l'aropettino. Ah, che per questo per questo per questo per questo. è morta quella rincoglionica che personaggio 47 ha fatto sto tiro 47 di dar 47 di dar a vedere la collezione cos'è l'hanno messo, Watson, nì, Pathfinder non mi piace, Mirace è carino, Crypto non mi piace, Bunga non mi piace, Gibo è figo, porca puttana se è figo, un Karemenante è figo, le frite Recolor praticamente, Kalsic Recolor, bella Lifeline, questa è quella della cosa però, Brody, bello il gufo, ignorante, ottimo, un po' vuoi per un pack, 7 gen, c'è una, dobbiamo avere peacekeeper, 400 materiali, ovviamente potrei prendere due leggendarie e basta, che tristezza, faccio sporcare 200, sono troppo tardi, 1200, ne posso prendere uno, quasi due, si ma non mi prendo, ma si fuori, non esiste, non esiste proprio, da un po' che non uso, optegno dai, da partiti da un optegno, si troppo, non sono troppo, non esiste, non è vero, Eeeh... Stiamo più tanto che a zombie trovi rincoglionati, cazzo. Forse la gente è brava a sparare, almeno ti diverti, vai su di livello, insomma... Adesso mi dispiace per te. Io vivo per gli affari. Boh, io non mi trovo, figa. Più delle volte trovo gente che muore già al quarto round, un po' di... Ah, non devi essere solo a pensiero quando stai giocando, devi giocare. Essere attiva, via, subito, rapido. Tienete duro, è ora di scendere sto... Andiamo da questa parte. Voi! Ha, ha! Voi! 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 C'è una wingman. Ah, prenderei anche una wingman ignorante. Mi serve uno scudo corporeo. Qui c'è un golden. Qui c'è uno zaino. Sì, potrebbe servirmi. Che testa di cazzo. Questa brutta gente, mi stai sui coglioni. Abbaffanculo te gli amici. Apro il negozio. Ehi! Finalmente una borsa nuova di secca. Ma c'è uno scudo almeno. Ah, c'è. Almeno quello. Caricatore è uno scudo. Ah, eh. Più veloce! Mi servono munizioni pesanti. Nooo. Aspetta. Qui ci sono munizioni pesanti. Mie. A testa di cazzo. Fai rincoglionito con me. Non lo fai, cazzo. Qui c'è un caricatore pesante esteso. Livello 3. Ne ho bisogno. Piglialo. Non si me ne frega. Ci do come senza caricatore io. Mi fa paura a zero. Non ti ho appena il caricatore non so sparare. Qui c'è un caricatore pesante esteso. Nuovo leader uccisioni. Occhi aperti. Qui c'è un'ottica. Distanza ravvicinata. Grazie, dolcissà. No problema. No problema. C'è una scena. Qualcuno vuole fare shopping? C'è il cazzo. Attenzione. Il campione è stato eliminato. Il mio bottino preferito. Quello che non devo dividere con nessuno. Campione fuorigioco. C'è anche il caricatore pesante. Grazie. Siamo solo al prossimo a letto. Speriamo di trovare del buon bottino qui in giro. Eseguo un salto quantistico. Eseguo un salto quantistico. Controlliamo quest'area. Ma che vuoi quest'area? Ho un buco di conferenza. Oh, giilte. Ehi, diamo uno cutipi. . anche dentro l'anello proprio mazzo di scelta qui c'è uno stabilizzatore canna livello 1 attivo il salto quantistico ahhh che palle qui c'è un calcio standard, livello 1 si potrebbe essere 2 qui c'è uno scudo evo, livello 2, ne ho bisogno pigliano tu, che cazzo come sei? piglio io anche piglio io grazie apro il negozio ci do anche quello scudo bianco e io porro a zero l'ova non dimentica questo gioiellino viene con me buono io prendo quel blu cazzo i tuoi cazzo i tuoi guarda che ti uccido coglione non rischiarla ma poi se ti uccido vengo a prenderti però così cazzo i tuoi cazzo i tuoi mi hanno colpita cazzo i tuoi cazzo i tuoi cazzo i tuoi che idioti apro il fuoco stanno sparando questo gioiellino viene con me sto ricaricando gli scudi cazzo i tuoi cazzo i tuoi qui c'è un caricatore energetico esteso livello 3 e ora fiammere no no neanche sparare che tristezza mi faccio un bello zaino viola vaffanculo tanto turbo compressione lo uso stabilizzatore potrei anche usarlo ma anche no faccio un bello zaino vaffanculo poi vaffanculo 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 va e vaffanculo vaffanculo ioridge rehabilitation essa das rental Qui c'è uno stabilizzatore canna, livello 2 Questo sarà anche il loro territorio, ma io faccio quello che voglio Complimenti, avete davvero buon gusto Puoi anche dire giuro che c'è buon gusto amica C'è qualcuno che non è qui per vendermi dolcetti C'è qualcuno che non è qui per vendermi dolcetti, troppo forte Vediamo un po' cosa c'è qua giù Abbiamo un nuovo leader uccisioni Nuovo leader uccisioni Bravo, vantati pure Stanno sparando Versaggio eliminato Ricarico Sto ricaricando gli attenzioni Panello in movimento Sto spiando un nemico Mi curo, da questa parte, andiamo Salto coltistico attivato Stanno sparando Un altro fuoco ci sta attaccando Un altro fuoco ci sta attaccando Che vola fuori Eh lo so che c'è un nemico individuato, fallo tu allora E ci sto pensando Abbi pazienza amica Eh io no però Porca te l'hanno distrutti Prego amica eh non c'è di che Ok 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 Claudipetta Ok Ok Ah ok che cazzo fa che cazzo fa che cazzo fai poco tempo non ce la fai non lo puoi fare il giro perdi vita c'è quattro di livello ti scioglie non riusci neanche a curarti che ti scioglie cazzo io devo andare ma vi lascio questo io devo andare ma vi lascio questo è proprio uguale già ce l'ho il scudo evo quanti cazzo mi hai ma quanta roba che idiota che sono che sono morti adesso ma quanta roba 45 secondi alla chiusura dell'anello c'è tempo ma no nemico individuato laggiù nemico da quella parte ricarico gli scudi datemi un secondo sto ricaricando gli scudi cazzo che ha sparato questo ronzo un attimo devo curarmi ah ecco dov'è carico gli scudi carico gli scudi di culo copritemi che qui troveremo qualcosa di interessante che cosa che cosa cazzo mi sono andato a cazzo che si è andato a l'acqua ricarico ricarico e muori un eliminato in uno però vinto ci credo uscito e muori ma è morto oddio che bella partita mi ho proprio steso questi due grande octane pega da soddisfazione da proprio soddisfazione 3 kill puntate no neanche 2 kill un botto di danno più di questi due messi assieme ma vabbè evitiamo discorsi capito sammy? questa è potenza questa è capacità e quella è una miccia una bella miccia sei proprio tu bella miccia un pacchettino apriamo un pacchettino dai mi dovrebbe da ridere un sacco di viola oh no ma perché ah dio signora ah mi fa vedere le sfide non ho anche visto le sfide rampart gibrethal o mirage Ah le hanno cambiate Adesso non c'è più i cosi Azzo Rampard giverta o mirage Oppure giverta mirage o rampard Che belle scelte che ho Mi devo usare mirage No mi devo usare mirage dai Non sono capace di usarlo Quanto odio ste cose Cioè giverta si Anche giverta non so Proprio zero Eccolo 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 X Lavoro duro Bella storia Così sono uno schianto Letteralmente Questi capelli Questo viso Che te lo dico a fare Ecco 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 il campione Preparati Vengo a prenderti Eccolo un po' più forte di me Mi sa Che risocio Che risocio Che risocio Che risocio Che risocio Perché Che risocio andiamo da questa parte se vi serve qui c'è un caricatore energetico esteso livello 3 perché devo avere sempre sta merda di mozano in mezzo al cazzo cazzo che dice non so ma a chi sta dicendo sta roba non capisco qui c'è un caricatore pesante e esteso livello 2 abbiamo un uovo leader uccisioni attenzione uovo leader uccisioni lasciate a me qui c'è un avoc ci pulisco i denti con la bocca menta dentale ahhh c'era il caricatore cazzo che era il caricatore quattordici celleri c'è un caricatore energetico esteso qui livello 3 eh vabbè perché li ho trovato qualcuno qui ci sono posizioni pesanti arriva l'imbroglione arriva l'imbroglione ecco grazie l'anello è lontano c'è un caricatore energetico esteso mi servono munizioni leggere direi che non è proprio piccolo il problema sa me proprio per niente qui c'è una scatola del tesoro ho scelto la strada giusta qui c'è una batteria a scudo ho il culo peggio io grazie attenzione si sta muovendo guerrieri nessuno è dentro attenzione il campione oh non sei una recente finalmente questo sarebbe un campione nemico la giù nemico individuato arriva l'imbroglione che è l'imbroglione ha saltato che cazzole va eh ma li pushiamo così va bene sto combattendo il nemico nemico laggiù mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi attenzione ne ho uno qui e he attenzione oh cazzo come hai che cazzo che cazzo che cazzo puoi hai vero Non c'è qualcosa di buono da questa parte Perché devo dire gnn 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 xammi? Allargare non capisco Non c'è un cazzo, ho rischiuchato tutto, porca troia! Rocky Baty Baty Boa Mi l'ha lasciata prima il tiro Insomma l'ha lasciata e fate a meno Ecco, non me l'ha lasciata Siete proprio crudeno Qui c'è un'optica, distanza ravvicinata Arriva le- Sì, potrebbe servirmi Qui c'è un'optica, check here Qui c'è una batteria a scudo Grazie Io per riprendermi Perciò Perciò Sto controllando l'aria Sto controllando l'aria Sto controllando l'aria Eeeh Dio 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 Qui c'è un'optica Questi rispondono Abbiamo fubblici Sto blando pavimento Poi, inizi a fuoco alla rovesca-anall Granata Sto controllando l'aria Che ne dite di questa direzione? Sto controllando l'aria Sto controllando l'aria Sto controllando l'aria 45 secondi alla chiusura dell'anello Sto ancora parlando solo Cazzo Sto controllando l'aria 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 wow certo che è proprio bello solo un minuto alla chiusura dell'anello dai ma va un figa mi hanno parculato ma manco lo uso lo scudo cazzo me ne frego mio caro adesso il compagno porco dio c'è una squadra che ti aspetta ma che schifo di gioco no ma pacchettino pacchettino cazzo pacchettino giupacchetti giupacchetti la merda c'è uno spaccato banner contatori alle uccisioni con ah le uccisioni con coso ah carino c'è anche avrate ora quanto tempo che sono in agio un'ora è 20 potrei anche fermarmi ma si dai fermiamo ci va c'è stato bello per chi mi sta guardando c'è nessuno fate i bravi alla prossima volta